Mongolbar Martedì Shur Sintonizzare Shurongo Tunnel Pala Turno Khure Daro Tornare indietro Toltan Rifiutare Polinoto Imboccare Bontokor Spegni Cialukora Accendere Belkorettao Rivelarsi Tarnover Ticconegura Rigirare Khuro Girare per Abilgutohotta Uscir fuori Television TV Dados Dodicesimo Dados Dodici Binsho Ventesimo Bish Venti Digun Due volte Jomuz Gemello Shurda Torcere Torcere Pakan Ritorto Due Due Agosho Tipo Boisistusutuk Tipico Shadharonoto Adharonoto Tipicamente Pagri Pneumatico Becar I disoccupati Okottasito L'inaspettato Oru Brutta Brutta Churanto Finale Poriname Indefinitiva Chata Ombrello Asamurtho Incapace Agruhunio Inaccettabile Anisci Incerto Taka Zio Asacchondo Scomodo Avgan Inconscio Avgosh Sfrenato Otine Sotto Kugurgusto Metropolitana Nimnodeshe Sotto Boja Capire Buddi Comprensione Dubo Sottacqua Angaro Biancheria Intima Battilcora Dispare Betar Disoccupato Sotto Sotto Sotto